A lei, deputato De Bertoldi, passiamo all'interrogazione 3.346, che la vede ancora protagonista insieme al Presidente Foti, che ha oggetto iniziative normative volte a rivedere la disciplina del codice delle assicurazioni private, con particolare riferimento alle competenze dell'Ivas in materia di obblighi informativi degli intermediari. Il sottosegretario per le imprese del Made in Italy, Massimo Bitonci, ha facoltà di rispondere. A lei la parola. Grazie, grazie Presidente, grazie Onorevole. Con l'atto in parola si fa riferimento alle competenze dell'Ivas, Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, in materia di obblighi informativi degli intermediari prevista dal codice delle assicurazioni private. Come è stato ricordato dall'Onorevole interrogante, infatti, con nota del 1 febbraio scorso, il Sindacato nazionale degli agenti di assicurazione, che è lo SNA, ha chiesto il rinvio delle disposizioni del regolamento Ivas, che è il numero 51 del 2022, che è attuativo dell'articolo centro della 2bis, considerate irragionevoli anche alla luce delle sentenze 896 e 897 del Tar del 2023 della Regione Lazio, seconda sezione Ter. Con le città del pronuncio, infatti, il Tar, da un lato ha accolto la tesi dell'Ivas, in ordine a limitazione ai soli agenti mandatari dell'obbligo di preventivazione previsto dal regolamento Ivas. Dall'altro lato, invece, ha accolto il motivo di doglianza dello SNA relativo alla previsione regolamentare che richiedeva agli intermediari la raccolta e la conservazione della dichiarazione con quale il cliente attesta di aver ricevuto le informazioni sui premi offerti dall'impresa stessa relativamente al contratto base e di aver utilizzato il famoso servizio preventivas autonomamente. Secondo i giudici del Tar Lazio, infatti, quest'ultima disposizione appare connotata da oscurità del precetto, sia in punto di necessità o meno di ottenere dal cliente una dichiarazione scritta sia in ordine all'oggetto della dichiarazione stessa, così da risultare nel suo complesso irragionevole. È proprio la luce di tale pronuncia che nella nota del primo febbraio scorso lo SNA ha chiesto il rinvio dell'entrata in vigore di disposizione dell'articolo 11 del regolamento Ivas 51-2022, evidenziando alcune problematiche insite nella modalità di accesso e di consultazione della piattaforma. Interpellato sul punto, l'Ivas ha precisato di aver predisposto tutti gli strumenti idonei a garantire l'accesso e la risposta per via telematica ai premi applicati alle imprese di assicurazione anche tramite la piattaforma preventivas, in esercizio da maggio del 2021. Inoltre, le modalità di accesso adottate consentono, secondo Ivas, di utilizzare il sistema senza vincoli autorizzativi e permettono di interrogare tutte le imprese assicurative operanti in Italia nel ramo RC Auto. Tra l'altro, l'Istituto sottolinea che la soluzione in parola è stata adottata accogliendo le osservazioni formulate proprio dallo SNA nella pubblica consultazione relativa allo schema di regolamento proposto avvenuto dal 26 marzo 2021 al 25 maggio 2021. Ad ogni modo, Ivas, consapevole delle esigenze organizzative e in accoglimento delle richieste di prologue presentate già in sede di consultazione, ha comunicato di aver disposto termini diversi per l'entrata in vigore della nuova disposizione per gli intermediari il 28 febbraio 2023, ossia quattro mesi dopo rispetto alla tempistica prevista per le imprese. Voglio sostenere che alla luce delle segnalazioni ricevute, il Mimita ha comunque chiesto all'Istituto ogni utile valutazione in ordine delle possibili criticità applicate del servizio pubblico di preventivazione online delle teleferici auto Preventivas, con esse all'attuazione delle disposizioni recanti al regolamento Ivas del numero 51 del 2022, segnalate dall'Associazione di Settore. A seguito della richiesta del Mimit, Ivas ha espresso la volontà di accompagnare tutti gli operatori del mercato, collaborando con essi per il migliore funzionamento del nuovo sistema. Data la portata innovativa delle norme ha penetrato in vigore sotto il profilo tecnologico, di adeguamento di procedure e prassi in uso presso le imprese e gli intermediari. Inoltre l'Istituto ha riferito che terrà in conto di tale situazione l'attività di vigilanza durante i primi mesi di applicazione delle nuove norme. Ringrazio Sottosegretario Bitonci, il deputato De Bertotti ha facoltà di dichiarare se sia soddisfatto per la risposta alla sua interrogazione. Prego, l'ascoltiamo. Grazie, grazie Presidente. Ma questa volta, Sottosegretario, io non posso ritenermi soddisfatto completamente, in quanto, vede, innanzitutto il tema è molto complesso e quindi io dovrò fare qualche passaggio anche per chiarire un po' meglio la situazione. Intanto mi risulta direttamente dal Sindacato Nazionale degli agenti di assicurazione che le loro osservazioni non sono state accolte. Quindi, quanto dichiarato dall'Ivas, a detta loro, che ho sentito anche nelle scorse ore, non sarebbero state accolte. Questo è il primo punto che mi viene da dire al Sottosegretario e quindi inviterei il Sottosegretario a fare il possibile per chiarire se quanto riferito dal Sindacato degli agenti di assicurazione, appunto, corrisponde, come ritengo, al vero. Vede, qui parliamo di una normativa che, a quanto mi risulta, non ha uguali in Europa. Allora, già qui, quando siamo gli unici a fare un qualcosa e quando questo qualcosa significa, signor Sottosegretario, burocratizzazione e maggiori costi, vuol dire che qualcosa non funziona. Perché, vede, stranamente non capita spesso sia il Sindacato degli agenti di assicurazione, come l'ANIA, cioè i rappresentanti delle compagnie di assicurazione e anche tante associazioni di consumatori. Quindi, veramente, tutta la filiera, mi viene da dire, tutta la filiera del mondo assicurativo contesta questo regolamento, quindi il regolamento numero 51 dell'Ivas e, di conseguenza, la norma primaria che è l'articolo 132 bis del testo unico delle assicurazioni. lo contesta perché impone, di fatto, degli obblighi burocratici ad ogni agente di assicurazione che sono insopportabili. Tant'è vero che mi risulta, come dovrebbe risultare anche al Ministero, che gli agenti si siano autodenunciati, siano in disobbedienza civile per incapacità a poter adempire al loro ruolo. Vede, io faccio un esempio, sottosegretario. Un'agenzia media, dai dati che anche quale responsabile del Dipartimento Assicurazioni di Fratelli d'Italia ho avuto modo di verificare, un'agenzia media ogni mese ha circa 3.000 rinnovi di polizze RC auto. Se dovesse ottemperare alle burocratiche previsioni del Regolamento numero 51, dovrebbe assumere un 30-40% di dipendenti in più rispetto a quelli che hanno in carico. Cioè, vorrebbe dire accrescere in un 30-40% i costi fissi di un'agenzia di assicurazioni. Ecco, io credo che basterebbe questo dato, e lo dico anche da commercialista, e mi rivolgo ai collega commercialista e sottosegretario Bitonci, credo che basterebbe questo dato per far capire che qualcosa non è andato nel verso giusto. Quindi io ritengo che il Ministero, che da sempre si sta impegnando in questi sei mesi per essere più vicino al mondo dell'impresa, per liberare da lacci e lacciuoli il mercato, come il Ministro Urso ha più volte ribadito anche al Festival dell'economia concluso poche ore fa nella Mia Trento. Ecco, il Ministero dell'Economia debba, e il sottosegretario sono certo che condividerà con me questo percorso, debba impegnarsi per cambiare radicalmente questa situazione. Io personalmente ritengo che l'articolo 132 bis del codice delle assicurazioni potrebbe essere semplicemente cancellato. Ci rimetteremo al pari dell'Europa. Chiedo di rimettere gli agenti di assicurazione italiani al pari dell'Europa, e concludo Presidente, chiedo di limitare davvero questi obblighi che, ricordo, comporterebbero per ogni rinnovo la necessità di far vedere al cliente tutte le condizioni alternative e far sottoscrivere ad ogni cliente una dichiarazione che ha visto, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi obblighi burocratici assurdi che ingesserebbero il mercato, creerebbero maggiori costi dei quali poi verrebbero penalizzati ovviamente alla fine i consumatori, e che ribadisco uniscono in una protesta compagnie di assicurazione, agenti di assicurazione, associazioni di consumatori. Insomma, e concludo davvero, signor Presidente, ringraziandola per i secondi che mi ha dato in più, concludo davvero con un appello a questo Ministero, attraverso il suo bravo ed abile sottosegretario, per intervenire nella filosofia che ha improntato il di Castero Urso in questi mesi. Togliamo lacci e lacciuoli, liberalizziamo, togliamo costi che non servono se non ad appesantire il mercato. Grazie.